Buongiorno a tutti, era Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali, in particolar modo dei binocoli. La nota azienda dell'Ohio Oberwerk.com, fondata da Kevin Bussaroff, è famosa per la sua ampia gamma di binocoli. Nella serie XL, con modelli angolati specificatamente progettati per l'osservazione astronomica, sono disponibili ben 5 diametri, da 70 mm, 82, 100 e 127 e il nuovissimo 120 che sarà oggetto di questo test. La sigla esatta in questo caso è BT120XLSD e costa 3.995 euro. Vi anticipo che rispetto al binocolo di maggior diametro, quindi quello da 127 mm, questo è un nuovo doppietto e ha aperto F5.6 rispetto al tripletto da 127 mm che ha aperto F5.1 e pesa circa 2 kg meno. Come sempre all'interno dell'articolo su binomania.it e in questo video vi presenterò, oltre alle sue caratteristiche tecniche, i pregi e i effetti e le mie impressioni personali pratiche sul campo, scaturite dopo una lunga prova, resa possibile ovviamente grazie alla collaborazione di Oberwerk Europe che mi ha inviato in visione questo gigantesco binocolo. Ci vediamo quindi subito dopo la breve sigla e se volete nel frattempo iscrivetevi al mio canale. A tra poco! Il binocolo come vedete da questa immagine arriva all'interno di uno stupendo trolley metallico dotato di ruote, al cui interno è stato sapientemente creato una culla di materiale ammortizzante. In dotazione sono presenti due oculari da 14 mm che sviluppano circa 50 ingrandimenti. L'Oberwerk BT120XL-SD risulta abbastanza compatto per essere un binocolo con un diametro di 120 mm. Oberwerk dichiara un peso di poco inferiore ai 10 kg, infatti con gli oculari montati e la piastra cartoni montata il peso raggiunge soltanto i 10,2 kg. Riesco quindi a trasportarlo in giardino oppure all'esterno portando il treppiede con l'altra mano. Non posso dire, almeno per la mia esperienza, che sia un binocolo di difficile gestione. Il tripletto da 107 mm diametro invece raggiungeva un peso superiore. La livrea riprende quella della serie di binocoli telescopi, quindi BTXL. Ricordo che l'acronimo XL significa sia extra luminoso che extra leggero. Il binocolo è composto da uno scafo in lega di magnesio con una verniciatura bianca ben distribuita e priva di difetti, che è stata rifinita con dettagli anodizzati di colore oro. Nella parte superiore dello scafo si può mirare anche una maniglia con attacchi piccatini che consente l'utilizzo di vari accessori. Nella parte posteriore è presente la filettatura, passo da tre ottavi e un quarto, per il collegamento ai vari supporti. Il binocolo inoltre dispone di un sistema di paraluce retrattile perfettamente funzionante e fluido, mentre i copriobiettivi sono in metallo e si avvitano sulla filettatura del tubo ottico. L'interno del tubo ottico, come potete vedere, è stato ben opacizzato e ottimizzato con vari diaframmi. La messa a fuoco è singola su ogni oculare ed è presente anche una ghiera zigrinata che avvitandosi serra gli oculari. Gli oculari prodotti da Oberwerk sono dotati di un barilotto liscio. Sono disponibili in tre focali, quella da 14 mm di serie, poi da 22 mm e da 7 mm e queste sono acquistabili separatamente. Offrono quindi ingrandimenti rispettivamente di 48x per quello di serie, 30x e 96x, comprendo così la maggior parte delle esigenze di osservazione. Personalmente ho utilizzato il binocolo anche con alcuni oculari Bader Morpheus e i Vixen LV, i vecchi oculari all'antanio, fino a 4 mm di diametro, senza riscontrare problemi di serraggio, che potrebbero magari verificarsi con oculari dotati di barilotto scanalato. Con gli oculari di serie, che offrono un ingrandimento di 48x, sono riuscito a mettere a fuoco una distanza minima di 35 metri. Per raggiungere l'infinito ho dovuto ruotare in senso orario di poco più di due giri. Il portaoculare, come potete ammirare, è metallico, zigrinato e facile da utilizzare anche indossando i guanti invernali. Come ho avuto modo di riconfermare nella premessa, questo nuovo binocolo è dotato di due doppietti a 120 mm di diametro, dotati di vetro FCD100. Senza parlare con troppi tecnicismi, vi posso dire che il vetro FCD è migliore del classico vetro ID. Ha un numero di abbe decisamente alto, ma sono poco più economici degli FPL53. La sua lunghezza focale è di 670 mm, mentre l'apertura libera di prismi è di 27 mm. Utilizza inoltre gli stessi prismi del gigantesco BT127XLSD. Le immagini, come vedete, risultano brillanti, nitide e molto contrastate. Considerando che si tratta di un doppietto con un rapporto focale molto aperto, quindi circa F5-F6, ho notato anche un eccellente contenimento del cromatismo residuo. Relativamente agli oculari in dotazione, vi posso confermare che sono molto leggeri e compatti e si inseriscono perfettamente nella serie del porto oculari. Personalmente vi consiglio l'utilizzo degli oculari di serie, perché grazie al bordo perfettamente liscio evitano quelli piccoli spostamenti indesiderati che potrebbero verificarsi con oculari dal bordo scanalato. Gli oculari di serie inoltre sono dotati di una lente di campo di ben 30 mm di diametro e hanno un diametro complessivo compreso il paraluce di circa 49 mm. Per questo motivo consentono alla mia distanza interpupillare di mantenere comunque una buona distanza tra i due tubi ottici di circa 20 mm. Gli oculari poi sono stati ottimizzati con paraluci estraibili realizzati con una gomma non troppo spessa, vicino alla lente di campo, ma comunque funzionali. Mi è sembrato di percepire un sistema di click stop, anche se i click non sono molto netti. Il sistema prismatico di questo binocolo angolato dovrebbe essere composto da grandi prismi di porro con un ulteriore sistema prismatico di deviazione a 45 gradi. Con gli oculari di serie l'immagine della pupilla di uscita è perfettamente circolare e non si nota alcuna vignettatura apprezzabile ai bordi, grazie anche alla grande apertura dei prismi pari a 27 mm. Il field stop quando si mette a fuoco l'infinito è quasi perfettamente nitido con questi oculari. Ottimo inoltre anche il contenimento della luce diffusa intorno alla pupilla perché è praticamente invisibile. Nell'articolo come sempre troverete un lungo paragrafo sulle aberrazioni cromatiche e quelle geometriche. Ora vi confermo soltanto che l'aberrazione cromatica è decisamente ben contenuta anche ad alti ingrandimenti. E devo confermare che il maggior rapporto focale rispetto al modello da 127 mm quindi 5,7 contro gli f5.1 non comporta differenze significative, almeno per quanto riguarda il contenimento del cromatismo residuo, quindi mi sembrano abbastanza identici. Il controllo dell'aberrazione cromatica al centro del campo infatti lo ritengo eccellente. Soltanto in condizioni di illuminazione particolarmente critiche può comparire una leggerissima frangia verde-giallo-blu attorno agli oggetti più contrastati. Tuttavia, considerando la grande apertura e il rapporto focale, devo confermare che gli obiettivi in vetro FCD100, molto simili quindi alle FLP53 giapponesi, offrono delle prestazioni ottime. Anche il campo di vista appare piatto fino al bordo, con un'unica differenza all'esterno data dal cromatismo laterale, che però si nota soltanto su soggetti veramente molto contrastati. Anche in questo caso, come avevo notato con il modello BT100SD e il BT127, trovate le video recensioni in questo canale su binomania.it, gli oculari di serie forniscono un campo totalmente corretto fino al bordo, nell'uso astronomico, e quindi le stelle risultano perfettamente puntiformi come al centro. Eccellente anche il test con la U-ES-AF chart, che ha praticamente demolito tutte le mie prove effettuate di giorno con i migliori spotting scope da 95 mm di diametro. E' giunto adesso il momento di parlare delle mie impressioni pratiche. Per quanto riguarda l'osservazione naturalistica tipica, quindi il beardwatching, un binocchio da 120 mm di diametro non è sicuramente lo strumento più adatto per il beardwatcher classico, che è solito vagare tra boschi, paludi, osi naturali e cime delle montagne, alla ricerca dei soggetti preferiti. Tuttavia, qualora si utilizzasse da una postazione fissa, godendo di un ottimo panorama, sarà senz'altro possibile utilizzarlo con molto profitto per l'osservazione dei rapaci. Questo binocolo ha dimostrato capacità di riconoscimento elevatissime, superiore ai miei migliori spotting scope da 95-85 mm di diametro, con condizioni di turbolenza di urna favorevoli. E' possibile percepire con maggiore chiarezza la brillantezza dei colori e una visione dettagliata dei rapaci, anche a 600-800 metri di distanza. E' uno strumento valido anche se possibile trasportarlo in punti strategici per effettuare censimenti, analizzando ad esempio il numero dei componenti di una garzaia o i posatoi notturni dei cormorani. In questo caso la pupilla di uscita unita a un ingrandimento facilmente gestibile consente di osservare per ore senza particolari problemi. L'unico limite secondo me sarà dato soltanto dalla turbolenza atmosferica. Oltre all'osservazione astronomica il BT 120 XLSD è perfetto per l'osservazione del paesaggio, come ad esempio con un panorama del genere. Già attraverso gli oculari di serie si possono beneficiare di immagini nitide contrastate. Con questo binocolo ad esempio dal monte Sette Termini è osservato i battelli sulla sponda piemontese, quindi oltre 15 km, l'allenamento del club nautico di vela sul Lago Maggiore o gli escorsionisti sul Monte Lema o sul Monte Zeda, quindi sui 30 km, fino a percepire chiaramente non solo la forma del rifugio Margherita sul Monte Rosa a 72 km di distanza, ma in una mattinata con condizioni particolarmente favorevoli, circa le ore 8.30, sono riuscito a percepire la sagoma di alcune persone all'esterno del rifugio. Con questo strumento inoltre sarete in grado di leggere chiaramente le targhe delle automobili anche a oltre 2 km di distanza e distinguere chiaramente le persone. È uno strumento che secondo me può rivelarsi definitivo per chi possiede una buona postazione, come un classico terrazzo di casa che si affaccia sulla montagna o sul mare, o per chi ha una discreta forma fisica può permettersi di trasportarlo per qualche centinaia di metri dalla macchina al miglior punto panoramico disponibile. In tale frangente però mi permetto anche di fare un ulteriore approfondimento. Il treppiede in carbonio con testa che vedete, quindi il cartoni, trovate la recensione, anche in questo caso il video su binomania, lo reputo valido per un uso diurno senza superare i 40-50 ingrandimenti. È il classico secondo me treppiede da campo. Qualora voleste però servare con maggior profitto, soprattutto nell'uso astronomico e con meno vibrazioni, ritengo che la forcella dedicata rappresenti la massima espressione di stabilità e sicurezza che potrete ottenere se deciderete di acquistare questo binocolo. Per tale motivo quindi vi consiglierei un ulteriore sacrificio per ambire anche la forcella Oberwerk XL, costruita specificatamente da Oberwerk per questo genere di binocolo. Utilizzandolo con oculare da 25 mm di diametro che generavano una pupilla di quasi 5 mm, per la precisione 4,8, ho osservato delle ottime immagini crepuscolari. Anche il mio migliore spot in scopo di 95 mm non è stato in grado di raggiungere una tale profondità di illuminazione della scena. Caprioli e Cervi erano visibili infatti a oltre 500 metri di distanza senza alcun problema anche nella cosiddetta ora blu. L'Oberwerk 120 ovviamente è stato specificatamente progettato per osservazione astronomica e per tale motivo era utile testarlo con molta precisione anche perché ero curioso di verificare se potesse realmente sostituire il BT127 con il tripletto. Non ho potuto fare una comparativa pratica sul campo quindi mi dovrete scusare ma le mie percezioni sono prettamente personali e dipendono anche dall'esperienza accumulata durante le ore in cui ebbi la possibilità di provare il binocolo da 127 mm di diametro. Come ho già avuto modo di anticiparvi non ho notato differenze significative nel contenimento del cromatismo residuo nella percezione della nitirezza del contrasto. Anche osservando la luna ad alti ingrandimenti ho verificato un buon contenimento del cromatismo residuo intorno al bordo lunare. Ad esempio a 50 per si nota soltanto un lievissimo alone verde intorno alla luna piena. Il binocolo è oltremodo luminoso inoltre. Ho percepito chiaramente le galassie che avevo già osservato con il 127 mm. Ad esempio all'interno del grande carro ho potuto osservare chiaramente un paio di galassie tipo M51 e M101 che erano percepibili ma con difficoltà nel 100 mm e molto difficile da distinguere nell'80 mm. Questo per le condizioni dell'inquinamento luminoso della mia località. Questo binocolo consente in parte quindi di aumentare le vostre capacità osservative anche se non avete la possibilità di spostarvi in luoghi molto bui. Gli oculari di serie inoltre forniscono immagini nitide e contrastate con stelle puntiformi sia nel bordo del campo. Osservare con un binocolo da 120 mm è sempre un'esperienza soddisfacente in quanto il paesaggio da un 100 mm è veramente netto. Se siete abituati inoltre a un classico 20x80 non crederete ai vostri occhi. Il doppio ammasso di per sé o ad esempio è costellato di stelle puntiformi e colorate e le pledi sono uno degli oggetti più affascinanti che potrete osservare attraverso un binocolo del genere. Dal monte a sette termine ad esempio la galassia M31 occupa tutto il campo del binocolo mentre la galassia NGC 205 appare luminosa come M31 all'interno di un binocolo 10x50. Nebulose e complessi da massi stellari come quelli in auriga vi consentiranno di trascorrere ore sotto un cielo anche mediamente inquinato. Se avrete poi la possibilità di utilizzare oculari astronomici che consentono di mettere a fuoco anche con i filtri nebulari avrete l'opportunità di osservare chiaramente la nebulosa vela del cigno anche dal giardino di casa. Per quanto riguarda invece l'osservazione astronomica ma ad alti ingrandimenti è importante sottolineare che un binocolo da 120 mm pur essendo performante non potrà mai fornire la stessa nitidezza e contrasto di rifrattori ad esempio aperti F8 totalmente devoti a questo genere di osservazione. Le immagini sono piacevoli ma non raggiungeranno mai l'estrema nitidezza e il contrasto di un rifrattore apocromatico ad esempio da 150 mm di diametro di altissima qualità dotato di oculari e di un visore binoculare di alta qualità anch'esso. Rimane infatti uno strumento ottico con un rapporto focale molto aperto e un sistema prismatico più complesso rispetto a quelli di un classico telescopio. I vetri FCD da 100 mm in ogni caso riescono a fornire ottime prestazioni come già accennato anche nell'osservazione della Luna. Il cromatismo residuo è ben contenuto anche a 100x e l'osservazione con un solo occhio ad esempio nei confronti del mio rifrattore acromatico Celestron F5 da 150 mm è decisamente impari. Infatti i vetri FCD sono in grado di fornire immagini della superficie lunare incomparabili in termini di nitidezza, contrasto e diminuzione della loro luce diffusa rispetto al classico ed economico rifrattore cinese. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Obiettivi di ottima qualità, buon contenimento del cromatismo residuo, nitidezza e contrasto, campo di vista totalmente piatto anche con gli oculari di serie, secondo me è facile da gestire anche per una persona in buona salute. Peso contenuto è possibile sfruttarlo anche ad alti ingrandimenti. Ha una migliore ambientazione termica quindi si raffredda prima portandolo da casa all'esterno rispetto al tripletto da 127 mm. Secondo me è uno strumento ideale e definitivo per gli appassionati esigenti. Tra i difetti sebbene sia gestibile non offre ovviamente la stessa facilità di utilizzo di un binocolo da 100 mm. Richiede inoltre, secondo me per sfruttarlo al meglio, la forcella di serie. Per ottenere le migliori prestazioni quindi vi consiglio di acquistare la forcella XL fornita da Oberwerk. Inoltre, anche se ci sono tre coppie di oculari, è compatibile con oculari di terze parti. Il sistema di fissaggio degli oculari però funziona bene con oculari a barilotto liscio, quindi potrebbe necessitare di verifica l'utilizzo con oculari di terze parti dotati di barilotto scanalato. In definitiva, quando ho iniziato la mia carriera di giovane astrofilo negli anni 80 non avrei mai immaginato di poter osservare attraverso strumenti di questo calibro e con un diametro così grande e un'alta qualità ottica. Attualmente considero l'Oberwerk BT100 XL SD uno dei migliori binocoli giganti disponibili sul mercato. È dotato di obiettivi FCD di alta qualità e di oculari di serie con prestazioni ottime, il tutto con una gestione del peso che le rende utilizzabile dalla maggior parte degli osservatori. In abito paesaggistico è eccellente nei limiti imposti dalla turbulenza diurna e primegge anche nell'osservazione astronomica, offrendo risultati superiori rispetto ai tradizionali binocoli da 100 mm di diametro. Per molti appassionati potrebbe rappresentare uno strumento veramente definitivo. Vi consiglio un'altra volta di acquistare la forcella dedicata per massimizzarne l'uso. Per oggi termino qui. Io ringrazio come sempre Kevin Bussaroff di Oberwerk per avere fornito tutte le informazioni utili a scrivere il mio articolo e ovviamente Pietro Romagnone di Oberwerk Europe, che è il distributore per tutta Europa e quindi anche in Italia, per avere fornito uno dei primi esemplari arrivati qui in Italia. Ringrazio inoltre come sempre tutti gli appassionati che mi stanno seguendo numerosi, ricevo tantissime email e vi ringrazio e vi ringrazio anche di partecipare sul forum di Binomania, sul gruppo Facebook tutto ma proprio tutto sui binocoli e ovviamente di leggere quotidianamente il sito web binomania.it. Inoltre se ancora non lo avete fatto, vi consiglio di farlo perché potete rimanere sempre aggiornati gratuitamente, potete iscrivervi al mio canale utilizzando l'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!